Caltaacqua aderisce al sistema PagoPà, la piattaforma digitale nazionale che permette di scegliere come pagare tributi, imposte o rette verso la pubblica amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino. È un importante passo verso il futuro che va in direzione della semplificazione del dialogo con l'utenza nel segno di una maggiore efficienza dei rapporti, del risparmio di tempo e di carta. Caltaacqua, il gestore del servizio idrico per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha infatti implementato i servizi della propria area online, adottando come ulteriore mezzo di pagamento il sistema PagoPà accessibile con pochi clic dal proprio cellulare. Così si eviteranno le file agli sportelli con evidenti benefici nella gestione quotidiana delle proprie attività. Da tempo, recita la nota del gestore, Caltaacqua sta accompagnando la propria utenza lungo un virtuoso percorso di consapevolezza dei consumi e di lotta ad ogni forma di spreco. Chiunque può chiedere gratuitamente l'invio della fattura in formato digitale alla propria casella di posta elettronica senza ricevere più la copia cartacea. Uno strumento molto utile che si unisce agli altri, sempre gratuiti, a disposizione dell'utenza come la domiciliazione bancaria della fattura che evita problemi di scadenze e file agli sportelli. E infine un altro servizio molto utile grazie al quale comunicando il proprio numero di telefono al gestore si possono ricevere via sms in tempo reale informazioni su eventuali modifiche, ritardi o mancata effettuazione della distribuzione.